Sarà sicuramente un'esperienza molto positiva, poco usuale, di sicuro porterà a casa un buon bagaglio tecnico. Non vedo l'ora di confrontarmi con i colleghi, con il programma e come vada vada sarà un successo. Alla fine di questo viaggio sicuramente avrò un arricchimento in più, avrò sicuramente portato qualcosa in più a casa e poi il resto si vedrà. E' stato tranquillo, è stata una cosa piacevole, divertimento, veramente mi sono divertito. Davanti ai giudici mi aspettavo quello che mi avrebbero più o meno chiesto, è stato molto lineare, è stato molto semplice, è andato ok, va bene. La settimana è stata veramente eccezionale, è stata molto briosa, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un collettivo con gli altri ragazzi che non conoscevamo e se la rifarei, la rifarei però che potrei scendere un pochettino a vedermi un pochettino in qualche città. Però alla fine è stato un arricchimento, un buon bagaglio tecnico che porterò a casa nei miei tasselli da conservare. La consiglio perché più si va avanti e più si hanno nuovi traguardo.